Abbiamo parlato un po' tra di noi e veramente è una cosa che vogliamo fare l'anno prossimo, giocare una Coppa Europea, sarebbe incredibile. Sì, secondo me è questo torneo, abbiamo giocato abbastanza bene, siamo una squadra un po' diversa, un po' più aggressiva e sì, speriamo fare una bella gara. Grazie.